Buonasera cari amici, bentrovati a Metropolis, puntata del venerdì, come facciamo sempre dedicata ai temi che riguardano la nostra salute. Prima parte dedicata alla pelle, seconda parte dedicata ai nostri denti. Quindi partiamo con la dottoressa Valeria Sadi Gershadi, dermatologa presso il Centro Diagnostico Italiano. Dottoressa buonasera. Buonasera a lei a tutti. Dunque per parlare di pelle, ovviamente siamo in una stagione particolare, ormai c'è l'imminenza dell'estate, a temperature a volte si dice siamo già forse in estate, comunque già stiamo pensando all'abbronzatura estiva e naturalmente servono come sempre dei consigli, dei consigli naturalmente di un professionista, per cercare di abbronzarci nel miglior modo possibile senza incorrere in scottature o magari in gravi problemi per la nostra cute. Dunque, che consiglio dare? Come si può affrontare al meglio il sole estivo? Anzitutto, buongiorno, buonasera a tutti, pensando che non si può diventare subito neri, no? La tintarella, come dico sempre io, va presa gradatamente, perché sennò si rischia in incorrere nelle ustioni solari. Evitare il primo giorno di esporsi per troppe ore e soprattutto senza protezioni. Quindi la cosa fondamentale è capire il proprio fototipo per permettere di scegliere la giusta protezione per evitare appunto di scottarsi. Perché ricordiamoci che il sole non è nemico della pelle, però bisogna sapersi comportare, perché altrimenti da amico diventa nemico. E quindi conta anche ovviamente il fatto dell'età che ogni persona ha, più giovane, più anziano. Assolutamente, assolutamente. L'età è un fattore molto importante. La cosa fondamentale che ci tengo a precisare è quella di evitare le scottature nei bambini. Perché il DNA di un soggetto giovane è sicuramente più a rischio di avere delle mutazioni dovute alle ustioni solari, danni che poi non si pagano nell'immediato, ma si pagano con l'andare del tempo o poi, diciamo, alla nostra età. Quindi in età molto giovane. Ne sappiamo qualcosa. Ecco, quindi qual è il consiglio? Come iniziare dunque? Allora, iniziare innanzitutto utilizzando dei fattori di protezione alti. Poi magari entriamo un po' più nello specifico su come si può scegliere un solare. E poi, quando la pelle ha raggiunto un certo grado di abbronzatura, e ricordiamo che l'abbronzatura è una protezione che la pelle ha nei confronti delle radiazioni ultraviolette, si può scendere di fattore protettivo. Però il fattore protettivo va sempre messo. Cioè, uno degli errori più frequenti delle domande, anche più frequenti, che mi sento fare durante il mio lavoro, è quello di «Dottoressa, ma una volta che sono abbronzata, vero che non posso più, non devo più mettere il solare?» E no! E no! Il filtro serve sempre. Il filtro va sempre messo, perché le radiazioni ultraviolette sono dannose. Quindi, il filtro non va mai dimenticato. Anche una volta che c'è l'abbronzatura, magari si può scendere di fattore, ma assolutamente il filtro va sempre messo. Questo è importantissimo. E questo naturalmente anche nella nostra latitudine, insomma, sulle spiagge italiane. Assolutamente, perché è vero che non siamo all'equatore, e quindi, ovviamente, più vicini sia all'equatore, maggiore è il rischio. Però comunque anche il sole della... E comunque sono in Liguria, ad esempio. Esatto, assolutamente la crema protettiva va sempre messa, va innanzitutto applicata, ricordiamoci, ogni due ore se si sta il sole, e anche se tutte le creme che ormai sono in commercio sono tutte waterproof, ossia resistenti all'acqua, vanno sempre riapplicate dopo i bagni. E un'altra cosa che tengo a dire, perché è molto importante, è la quantità di crema. Perché spesso e volentieri ci si mette una quantità di crema che non è sufficiente, e quindi si incorre scottature. La crema deve essere abbondante. Quindi si deve vedere proprio uno strato sopra la pelle. Si deve essere abbondante, anche se non si vede, ma comunque deve essere applicata in maniera abbondante, perché se no, anche applicando un fattore SPF 50, ci si scotta, ricordiamo. Noi siamo abituati a tante creme in commercio, spesso le troviamo anche al supermercato ormai, e qua ci deve però insegnare come dobbiamo districarci nell'acquisto di queste creme, e soprattutto il famoso numerino 5, 10, 15 o 20, con che criterio va utilizzato. Allora, magari faccio una piccola introduzione per spiegare meglio che cos'è questo famoso SPF che si vede scritto. Allora, le radiazioni che raggiungono la Terra sono di due tipi, gli infrarossi e le radiazioni ultraviolette. Gli infrarossi sono quelli che scaldano, no? Scaldano la cute e che da un po' di tempo in qua si è stabilito che sono dannosi tanto quanto gli ultravioletti, non tanto sulla carcinogenesi come gli ultravioletti, ma sulla comparsa, ad esempio, delle macchie cutanee sull'invecchiamento e anche sul fatto che scaldano la pelle, quindi provocano danni sui capillari delle gambe, capillari del viso. Quindi, quando si sceglie una crema, bisogna considerare l'infrarosso e quindi si dovrebbe scegliere una crema dove ci sia anche una protezione IR, questo IR significa infrarosso. E lo vediamo scritto. E lo vediamo scritto sulla crema. E poi il famoso SPF. L'SPF riguarda invece gli UVB. L'UVB fa parte dello spettro della radiazione ultraviolette, è solo il 5% della quantità di radiazioni che raggiunge... Però sono quelli più terribili? Sono quelli più terribili sulle scottature solari, perché non riescono a penetrare profondamente, hanno una lunghezza d'onda che non li permette di penetrare profondamente, rimangono superficiali e sono quelli responsabili della scottatura solare e della carcinogenesi. Quelli più dannosi invece sono gli UVA. Quindi il fattore SPF che noi vediamo scritto numerino, SPF 20, 30, 50, riguarda gli UVB. Ma è molto importante, quando si sceglie la crema, che ci sia anche la protezione sull'UVA. Quindi tutte e due, insomma. Assolutamente sì, soprattutto la protezione sull'UVA. Perché l'UVA, a differenza dell'UVB, intanto è il 95% delle radiazioni che ci raggiungono, ma sono presenti tutto l'anno, come l'UVB. Tutto l'anno non vengono schermati dalle nuvole, quindi anche col tempo brutto ci sono, non vengono schermati dagli ombrelloni, i vetri, gli occhiali da sole. Quindi sono quelli più dannosi, arrivano in profondità nel derma e sono i più responsabili della carcinogenesi cutanea, del fotoinvecchiamento, della comparsa delle macchie, ma soprattutto, perché parliamo anche di prevenzione dei tumori della pelle, dei tumori della pelle, che purtroppo sono in aumento. Noi conosciamo il melanoma. Il melanoma, i tumori della pelle si dividono in due grandi gruppi, si dividono in tumori melanocitari, di cui il melanoma è il capostipite, i tumori non melanocitari, che sono quelli più legati alle esposizioni solari eccessive, i basaliomi, gli spinaliomi e le keratosi attiniche, che sono delle precancerose. Quindi diciamo sempre che il sole fa molto bene, però in alcuni casi può fare anche molto male. Il sole fa bene sempre a tutti, tranne in alcuni casi di patologie, di persone che non si possono esporre al sole, però bisogna ricordarsi di esporsi sempre seguendo delle regole ben precise. Le solite regole, quelle di non esporsi al sole nelle ore centrali della giornata, di assolutamente utilizzare i solari sempre a qualsiasi ora della giornata e anche dopo, per i fortunati che ci stanno, un mese e mezzo, due di vacanze, soprattutto i bambini, che magari passano i classici tre mesi al mare, sempre mettere la protezione ai bambini. Il problema è chi invece fa pochi giorni, che in pochi giorni vuole conquistare l'abbronzatura. Allora, diciamo che possiamo dare un po' dei trucchetti, degli aiuti a queste persone, che vogliono magari stimolare un po' più la tintarella. Esatto. Ad esempio, possono assumere degli integratori, che contengono i betacaroteni, i licopeni, la vitamina C, la vitamina E, che non solo stimolano l'abbronzatura, ma aiutano il corpo a proteggersi dall'interno. Quindi, adesso, è un qualcosa di utile, non solo per stimolare l'abbronzatura, che a noi, insomma, interessa poco come dermatologi, ma soprattutto per aiutare la fotoprotezione dall'interno. E poi, un altro consiglio è quello, per le persone che magari si espongono tanto al sole per lavoro, perché ci sono anche le persone che, i bagnini, ma non solo, anche chi lavora nelle autostrade, insomma, chi sta... Nell'edilizia. Nell'edilizia, chi sta sui tetti, che costruisce le case. Che naturalmente hanno bisogno di protezione. Assolutamente sì, si possono assumere altri tipi di integratori contro i radicali liberi, che sono quelli prodotti dall'esposizione alla radiazione UV e che sono quelli che causano più danni in assoluto. Forse... No, è caduta. Aveva una telefonata... Ci picchia. Ma è caduta. Ecco, restando sul discorso protezione, però c'è il famoso numerino. Sì. Con che criterio dobbiamo indirizzarci verso un acquisto piuttosto che un altro? Certo, allora, Allora, il criterio è in base al fototipo. Secondo Fitzpatrick... Cioè, più è la pelle bianca? Più è la pelle bianca, più il fattore deve crescere. Così, semplificandolo. Non è solo pelle bianca. Diciamo, ci sono delle domande quando un paziente si reca dal dermatologo per identificare il fototipo, si fanno alcune domande. Ad esempio, vabbè, a parte di che colore hai gli occhi? Se sono chiarissimi, azzurro chiaro, marrone chiaro, marrone scuro. Di che colore hai la pelle? Se ti vengono le lentiggini quando ti esponi al sole? Quanto tempo prima, quanto tempo dopo esserti esposto al sole ti scotti? Tutti questi fattori determinano il fototipo. I fototipi sono 4 o 5, a seconda poi, insomma, delle classificazioni che si usano. Ovviamente fototipo 1 in Italia è poco presente, perché è il fototipo delle popolazioni nordiche. Diciamo che il fototipo medio italiano va dal 2 al 4. 2-3 è il fototipo medio, anche il 4 poi dipende dalle regioni sommi italiane. In linea di massima, diciamo, noi italiani su... 2-3. 2-3. Perché, vedi, ad esempio, tu hai gli occhi chiari, la pelle chiara, io ho gli occhi scuri, ho la pelle chiara, tu magari lentiggini, io no. Insomma, sono tanti i fattori. Prendendo un fattore alto non si sbaglia mai. Comunque, iniziando con una 50, a meno che non si abbia un fototipo particolarmente scuro. Ah, addirittura 50. Iniziando, è certo, inizio. Dopodiché si può scendere a una protezione più bassa. Però, se uno come te o come me si espone al sole direttamente ad agosto senza avere mai preso un raggio di sole, perché lavoriamo al sole di ferragosto, capisci bene che se metti una 20, alla sera, insomma, sei bordeaux. Cosa che non deve succedere. Cosa che non deve succedere. Assolutamente no. Ma per filtri ad ampio spettro, cosa si intende? Qui è un discorso un po' ampio, perché ci sono anche delle, diciamo, delle nuove regolamentazioni. Infatti, prima si usavano i numerini, adesso i numerini nelle nuove creme non ci sono più, si dividono in molto basso, basso, medio, alto e molto alto. E quindi bisogna partire con quelli un po' alti. Diciamo, il molto alto, che è over, sopra il 50, il cosiddetto vecchio 50 più, che comunque rimane ancora scritto, è per le persone che hanno un fototipo particolarmente chiaro, o i rossi, i ruti, di quelli che hanno i capelli rossi, le lentigini, oppure per le persone che hanno avuto tumori della pelle, e che sono a rischio di sviluppare i tumori della pelle. Ma chi fa, ad esempio, i classici 15 giorni, parte i primi giorni con un cibo. Sarebbe meglio avere un po' di crema a disposizione, non una sola. Capisco che magari poi a livello del portafoglio non sia tanto conveniente. Questo sarà uno dei problemi. Però, diciamo che sarebbe meglio partire con un'alta protezione, una protezione 50 o 30, a seconda poi del fototipo che si è, e poi magari scendere, però mai sotto una... L'ideale sarebbe mai sotto una 30, comunque. Mai sotto una 30. Sarebbe meglio di no. Anche perché poi la pelle invecchia, quindi non è solo una questione che è importantissima, che è quella che interessano i dermatologi, sulla prevenzione dei tumori, ma c'è anche l'estetica. Quindi se non vogliamo assomigliare... A 20 anni è una cosa. Esatto. Se tu impari a proteggerti a 20 anni, quando ne hai 50, la tua pelle ti dice grazie. Se tu a 20 anni cominci a non metterti solare, o anche prima, quando arrivi a 50, poi qualche problemino ce l'hai. E poi dopo devi ricorrere, insomma, a tante cose. Devi correre dal dermatologo subito. Esatto. No, il problema invece è farmaci. Quando chi sta assumendo dei farmaci... Allora, chi sta assumendo dei farmaci deve sempre... Esatto. Non è che è vietato. Poi ci sono categorie che sono assolutamente non vietate, però per le quali sarebbe meglio non esporsi. Chi assume antibiotici, chi assume FANS, gli antifiammatori e gli steroidei. Ci sono categorie di farmaci cardiologici, come la mio Darone. Insomma, ci sono delle categorie... Io dico sempre, se assumete un farmaco, chiedete al medico curante, oppure allo specialista che ve l'ha prescritto, se potete stare al sole. Perché sennò possono comparire le macchie cutanee, poi quando compaiono, non è che poi scompaiono, una volta che tu hai smesso di prendere il farmaco. Quindi quando si prende farmaci, meglio chiedere esattamente al medico... Assolutamente. Cosa si può e cosa non si può fare. Al curante oppure allo specialista che gli ha prescritti. Le terribili macchie solari che un po' tutti abbiamo da qualche parte, via dicendo, ecco, si possono evitare? Si possono evitare, come ho detto prima, innanzitutto iniziando sin dall'età... Sempre. Esatto, sin dall'età giovanile, quindi quando si inizia a esporre al sole, a utilizzare dei fattori protettivi molto alti. Questo sicuramente. E poi cercare di non esporsi tanto al sole. Questa diciamo che è una regola generale, perché il sole fa bene, aumenta la produzione di vitamina D, fa bene all'umore, perché comunque ha tanti vantaggi. Però bisogna imparare che a non esagerare, come in tutte le cose, non bisogna esagerare. Per usare l'ombrellone. Ecco, assolutamente sì. E non stare spiagge nelle ore centrali della giornata. E ricordarsi che anche sotto l'ombrellone le radiazioni solari arrivano. Arrivano comunque. Quindi mettersi sempre la crema. E per un'altra cosa che mi piacerebbe raccontarvi è per i soggetti che non hanno i capelli, che sono calvi. Certo. Altro problema anche quello. Perché, come ripetevo, il sole noi lo prendiamo 365 giorni all'anno. Perché non è che andiamo in giro sempre col cappello. Quindi anche in inverno, soprattutto chi non ha i capelli, prende il sole. Questo tipo di comportamento, se non viene subito fermato, cioè quello di non mettere protezione, non mettere capelli, porta poi in età avanzata ad avere magari delle piccole problematiche. Ormai esistono anche dei capelli che hanno dei vestiti, degli indumenti, compresi i capelli con il filtro solare. Quindi sarebbe meglio anche di guardare sull'etichetta. Ormai ci sono. Cercare dei capelli o anche delle magliette per i bambini o per le persone che hanno... Sono fatti a posto. Assolutamente sì. L'Australia, Australia d'Ocet. Lei sa che, tu sai che in Australia, essendoci il buco dell'ozono, c'è, essendo loro di derivazione anglosassone, hanno un'altissima percentuale di mortalità per melanomi, per tumori della pelle. Per cui iniziano fin dai bambini a andare sulle spiagge con indumenti, cappelli, cappelli con le orecchie, perché anche l'orecchio è un altro posto molto delicato dove nessuno mette mai la crema sulle orecchie. Ci dimentichiamo sempre, no? Il dorso del piede, l'orecchio, sono sempre quelle due parti del corpo un po'... Lasciate... I figli della serva, quelle un po' dimenticate. Lasciate per loro conto. E invece bisogna ricordarsi perché anche le ustioni, quanta gente si è ustionata l'orecchio, tantissime. Parlando, purtroppo, bisogna parlare anche di questo, di tumori e quindi di melanoma, c'è il modo, con creme apposite, stando attenti ovviamente al tempo giusto, via dicendo, di evitarli o sono un qualcosa che è difficile da poter fare prevenzione? No, non è. Allora, il melanoma è un tumore della pelle che è correlato al sole ma anche a altre componenti. Non è solo ed esclusivamente legato all'effetto solare. È ovvio che se una persona ha avuto un melanoma o ha tantissimi nei, deve assolutamente stare attento. Questo è ovvio. E poi bisogna fare la visita dermatologica prima di partire per il mare. Sempre non abbronzati, mi raccomando a tutti. La visita dermatologica per il controllo dei nei va fatta con la pelle bianca perché se tu vieni da me che sei abbronzatissimo, come si abbronza la pelle? si abbronza il neo e quindi io vedo magari un neo più scuro e invece magari non è così semplicemente perché è abbronzato. Stiamo vedendo ad esempio una visita... Assolutamente, quello è uno strumento che si chiama dermatoscopio. La tecnica che utilizza è l'epiluminescenza che è la tecnica base che tutti noi utilizziamo durante una visita dermatologica. E voi riuscite subito a individuare se si tratta di un melanoma, di un qualcosa di pericoloso oppure no? Assolutamente sì. Già dalla prima visita, già dal... anche se non si conosce il paziente e quindi non c'è una storia di conoscenza. Se tu vieni da me e ti spogli e io ti visito se tu hai un neo a rischio o un melanoma sicuramente lo individuo. Assolutamente. Consiglio dunque sarebbe bene fare una visita ogni quando? Una volta all'anno. Una volta all'anno? Una volta all'anno sempre quando non si è abbronzati nelle persone diciamo che non hanno avuto particolari problemi. Invece se uno ha avuto un melanoma o altri tumori della pelle magari la visita si fa anche ogni sei mesi. Su questo è bene essere chiari perché invece diciamo la verità la visita dermatologica si vende sempre... A pensare che uno deve farla sia un problema invece non è così. Cioè la pelle ricordo a tutti che è l'organo più esteso del corpo umano ed è un organo. Non è solo un tegumento che divide no? Che protegge il corpo certo che lo fa ma la pelle è un organo come tutti gli organi esattamente come il fegato come il cuore contiene una serie infinita di cellule che si possono ammalare. Quindi come si va a fare la prevenzione correttissima dal ginecologo dal senologo dal cardiologo la pelle non ha età quindi non è che c'è un'età da cui ah dai 18 anni tutti prima no dopo sì no in realtà purtroppo i melanomi vengono a qualsiasi età ovviamente fino alla pubertà la probabilità di avere un melanoma è rarissima dalla pubertà fino ai 18 anni è rara ma non impossibile quindi se una se una se c'è una famiglia ci sono bambini molto pieni di nei o dove c'è una familiarità per il melanoma è bene anche se sono bambini portarli a far vedere anche perché come avete visto la visita non è assolutamente invasiva il macchinario è un macchinario che non emette nessun tipo di radiazione non c'è dolore assolutamente no non c'è nessun tipo di dolore e quindi non ha nessun rischio di fare una visita tutt'altro proviamo forse c'è in linea qualcuno un telespettatore pronto? buonasera 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 prego signora l'ascoltiamo senta io chiamo da Milano sì volevo dire io ho acceso da 10 anni fa ho l'osteoporosi però mi ho fatto detto che io non devo mettere assolutamente nessuna crema niente perché devo prendere il sole e basta perciò ho 67 anni e non so cosa devo fare ho la nipotina va bene ascolto tramite televisore posso? le rispondiamo signora grazie per la chiamata sì perché faccio fatica anche a sentire grazie buonasera buonasera osteoporosi questa è una bellissima domanda perché me la sento fare veramente ogni giorno durante le visite allora la maggior parte della vitamina D è prodotta a livello endogeno quindi la produciamo noi perché il nostro corpo è una macchina meravigliosa che sa fare tantissime cose tra le cose che sa fare c'è anche la produzione di vitamina D ovviamente il sole è importante sulla prevenzione dell'osteoporosi ma bastano 10 minuti di esposizione per avere la quantità di sole necessaria per la produzione di vitamina D quindi non è che uno deve stare esposto senza crema 12 ore perché sennò si rompe una gamba scendendo dalla seggiola non è proprio così è vero che sennò uno incorre nel rachitismo ma per avere il rachitismo insomma devi provare quindi diciamo per la signora che può andare al mare con la nipotina beata la nipotina che c'è la nonna che la porta al mare mettersi a tutte e due la crema solare e per la signora bastano 10 minuti anche con un pezzo di mano anche senza crema e che va bene non è necessario insomma abbiamo rincuorato speriamo la sera assolutamente sì godetevi le vacanze prendiamo un'altra chiamata pronto? buonasera pronto? niente niente sarà per la prossima e volevo invece una domanda sulla questione la moda del momento il tatuaggio so che chi fa il dermatologo spesso non è molto favorevole a questo allora non è una questione di essere favorevole te la spiego dal punto di vista dermatologico l'iniezione di un pigmento che è una cosa strana all'interno dell'acute comunque è una cosa che non andrebbe fatta perché può provocare nei soggetti che magari non lo sanno ma hanno delle allergie delle gravi reazioni a me è capitato una ragazza che non aveva mai fatto tatuaggi si è fatta un tatuaggio al petto anche abbastanza vistoso ha avuto una reazione allergica così grave da necessitare il ricovero quindi prima di fare un tatuaggio io non sono non dico mai no in assoluto perché poi esiste la libertà personale e il gusto anche di avere un tatuaggio io dico sempre le cose vanno fatte da professionisti quindi esistono i professionisti del tatuaggio con gli strumenti sterili perché questo è fondamentale perché sennò si prendono delle malattie ecco primo quindi professionisti andare da persone che fanno i professionisti del tatuaggio perché ormai ogni professione c'è il professionista ok non l'amico che te lo fa perché ho sentito anche questo si c'è anche una certa inflazione ecco tutti ormai fanno ecco esatto se nella vita avete mai sofferto di allergie avete avuto reazione allergica agli orecchini o anche altre siete degli allergici noti prima di fare un tatuaggio magari sentire lo specialista dermatologo per evitare poi di avere problematiche perché poi una volta che il pigmento è stato inserito non si può più togliere anche se tu fai il laser che anche noi al cd abbiamo per la rimozione del tatuaggio ma non rimuovi la reazione allergica non la rimuovi perché il pigmento è stato fagocitato dai macrofagi e la reazione continua ad andare avanti ma è vero che molti vengono a chiedere di poter cancellare il tatuaggio sì sì certo ormai prima di fare un tatuaggio magari sentire lo specialista dermatologo per evitare poi di avere problematiche perché poi una volta che il pigmento è stato inserito non si può più togliere anche se tu fai il laser che anche noi al cd abbiamo per la rimozione del tatuaggio ma non rimuovi la reazione allergica non la rimuovi perché il pigmento è stato fagocitato dai macrofagi e la reazione continua ad andare avanti ma è vero che molti vengono a chiedere di poter cancellare sì sì certo ormai diciamo magari ti tatui il nome del fidanzato la fidanzata la moglie l'amico l'amica poi la situazione personale cambia e uno il tatuaggio non lo vuole più assolutamente sì ormai esistono dei laser come ripetevano che noi ce l'abbiamo che tolgono i tatuaggi è una procedura un po' lunga non si può pensare di fare un tatuaggio fai il laser una volta e va via non è così non è dolorosa insomma non è neanche piacevole è un doppio stress per la pelle averlo fatto e doverlo togliere diciamo che prima di fare una cosa indelebile bisognerebbe pensarci bene bene siamo giunti in conclusione di questa nostra prima parte ringrazio tantissimo la dottoressa Valeria Sadig Erciadi dermatologa centro diagnostico italiano di Milano dunque è importante segnarsi anche questo grazie ancora speriamo di riaverla magari in futuro grazie a voi per avermi invitato adesso la pubblicità e poi parleremo di denti con il nostro amico e il dottor Salvatore Longò seconda parte di Metropolis come vi dicevo come facciamo sempre il venerdì ci occupiamo della nostra salute in questa seconda parte c'è tornato a farci visita il dottor Salvatore Longoni del Poliambulatorio Santa Polonia di Lazzate dottore buonasera allora vogliamo noi naturalmente abbiamo già effettuato molte puntate insieme al centro dentistico al Poliambulatorio di Lazzate Santa Polonia e ci hanno spiegato come lavorano un centro estremamente moderno estremamente all'avanguardia con medici che dialogano tra di loro imparano giorno dopo giorno questo naturalmente per mettere i pazienti nella migliore condizione questa sera volevamo affrontare un tema che è di grande interesse un po' per tutti noi quello degli impianti dentali che cos'è un impianto dentale come funziona direi che questo è l'inizio può essere l'inizio della nostra discussione sì direi di sì l'impianto dentale è una protesi biotecnologica normalmente costruita in titanio puro è tra i materiali più accettati dal nostro corpo non da reazioni allergiche pochissimi sono i casi riportati nel mondo di reazioni a questo materiale so che ci hai portato anche alcune foto un filmato quindi possiamo iniziare con le foto possiamo iniziare sì innanzitutto un impianto che normalmente le persone chiamano una vite insomma normalmente viene usato per posizionare o rimettere denti singoli o più denti insieme poi lo vedremo e ha questa forma di vite come normalmente i pazienti sono abituati a chiamarlo perché proprio si avvita si avvita proprio nell'osso il dentista crea questo foro poi vedremo e lo avvita nell'osso quello che incuriosisce le persone normalmente poi come fa a stare sul dente come possiamo vedere nella figura nella parte destra c'è una filettatura all'interno in cui va questo pezzo che noi vediamo scritto moncone che è una specie di connessione di unione tra l'impianto che sta nell'osso sotto la gengiva e il dente è vero e proprio che lì è scritto protesi quindi c'è questa unione di pezzi che normalmente avviene dopo la guarigione cosa vuol dire? vuol dire che noi posizioniamo questo impianto attendiamo un tempo di guarigione l'impianto diciamo il titanio ha questa caratteristica di unirsi all'osso la vera differenza fra gli impianti più moderni cioè quelli che usiamo oggi e gli impianti del passato perché spesso le persone dicono ah ma non c'è il rigetto questa cosa non esiste praticamente più pensiamo che questi materiali vengono usati per fare le protesi d'anca le protesi di ginocchio pensiamo a un rigetto di questo tipo sarebbe un grave guai quindi questo materiale ha la capacità ossidandosi di unirsi al nostro osso dobbiamo dargli tempo il tempo è mediamente 4-6 settimane quindi non un tempo così lungo un mese un po' più di un mese quasi due mesi un mese e mezzo un mese e mezzo due otto settimane più o meno sono due mesi e dopo questo periodo noi possiamo connettere questi pezzi se vediamo il filmato riusciamo a capire come inserire un impianto eccolo qua praticamente il dentista apre la gengiva il poco che serve oggi ormai questo intervento è veramente a bassissima gonfiore non dà fastidi con delle frese ricaviamo un buco un po' adesso non vorrei banalizzare come fare un buco in un muro in un pezzo di legno dove entra la vite il buco viene fatto del diametro più stretto in modo che poi i filetti della vite possono entrare nell'osso che in realtà è un po' morbido e quindi fissare perfettamente l'impianto questa è una parte che viene svolta poi manualmente per posizionarlo nella posizione più corretta viene chiuso quello accesso di cui abbiamo parlato prima in cui entra il moncone e da questo punto in poi vengono aspettati quei famosi mesi di integrazione perché si lascia che la gengiva si richiuda di nuovo che si richiuda totalmente dopodiché con una piccolissima incisione passati due mesi si toglie quel tappino che abbiamo messo se ne mette uno che fuoriesce dalla gengiva il dentista lo chiama tappo di guarigione perché fa guarire le gengive intorno a questo tappo e da qui in poi succederà quello che abbiamo visto prima cioè il dentista connetterà il moncone e poi di nuovo il dente e quindi il lavoro sarà terminato e il lavoro sarà terminato questo in realtà sembra semplice ma molto molta attenzione deve essere posta ci sono delle regole fondamentali di esserci una quantità di osso sufficiente ovviamente ci sono voluti anni per arrivare ci sono voluti più di vent'anni per capire quasi tutto perché forse ci sarà ancora qualcosa che dovremmo imparare probabilmente ma oggi l'impiantologia ha raggiunto veramente un buono stato dell'arte cioè possiamo garantire ai nostri pazienti il lavoro mentre prima pensiamo negli anni 80 addirittura quando io ho cominciato univamo i denti agli impianti perché avevamo paura che gli impianti non tenessero oggi gli impianti stanno da soli anzi sostengono perfettamente le nostre protesi possiamo come dicevo mettere un dente o più denti poi lo vedremo e questo dà grande comfort al paziente perché soprattutto si evita una cosa importante che è limare i denti del paziente se a un paziente manca un solo dente ad esempio e tradizionalmente cosa facevamo devitalizzavamo il dente prima e il dente dopo e facciamo quello come viene detto il ponte un appoggio di qui un appoggio di là come un ponte ma non sempre si riesce poi a fare ma non sempre si riesce a fare ma soprattutto è un sacrificio biologico tu hai due denti sani e li fai diventare devitalizzati e rimpiccioliti dal dentista con sopra due corone per utilizzare per fare quella in mezzo che non ha nessun significato mentre oggi con un impianto tu hai risolto il problema ecco invece qual è l'utilizzo clinico di questi impianti come dicevamo se possiamo vedere le foto noi possiamo usarla sia singolarmente cioè per un solo dente come dicevamo prima appunto in alternativa avremmo dovuto limare i due denti vicini che insomma ormai non ha più senso se i due denti vicini sono perfettamente sani ormai tutta la letteratura è d'accordo l'impianto funziona meglio non bisogna darli a toccare meglio di no a patto che ci sono le condizioni per farlo se invece mancano più denti ad esempio tre a volte non è così necessario mettere tre viti per tre denti ma si può fare il ponte cioè il concetto del ponte di prima due viti ai lati e tre denti di cui quello in mezzo che noi chiamiamo intermedio è sostenuto dagli altri due ed è attaccato agli altri due ed è attaccato agli altri due è un pezzo unico e quindi il paziente innanzitutto risparmia anche del denaro ma soprattutto l'osso viene meno invaso da questo titanio perché anche questo è un concetto che abbiamo sviluppato nel tempo perché una volta addirittura mettavamo molti più impianti in bocca oggi vedremo alla fine che noi possiamo addirittura con quattro impianti mettere quasi tutti i denti al paziente ecco infatti un po' la domanda che volevo fare è quanti impianti si possono mettere ovviamente per un solo dente uno ovviamente abbiamo visto la possibilità del ponte e oggi se vediamo ci sono delle immagini ecco questo ad esempio è il classico ponte che viene fatto su quattro impianti in un paziente che non ha più denti questa è l'interarcata l'interarcata sono dodici denti ne abbiamo quattordici ma protesicamente ne mettiamo solo dodici e bastano quattro e bastano quattro viti ci sono delle accortezze è un nuovo modo di fare questi lavori un modo medicina nuovo vuol dire almeno una decina di anni di sperimentazione il nuovo in medicina perché funzioni sia sicuro richiede un certo tempo di follow up cioè di controllo nel tempo perché per essere sicuro dire ai pazienti guardi in questo modo può funzionare anche qui ci sono tutta una serie di indicazioni ma in genere quando mettiamo un impianto perché come dicevo deve esserci una quantità di osso sufficiente perché questo è uno dei grossi problemi è uno dei grossi problemi perché fisiologicamente quando noi togliamo i denti l'osso tende a stringersi e ad abbassarsi un po' la vite ha un suo certo spessore ovviamente perché deve resistere deve avere tutti questi pezzi che si incastano quindi deve avere un diametro medio deve essere solido deve essere di buona qualità e deve essere abbastanza sufficiente come larghezza per poter mettere questa vite cioè normalmente si fa almeno un millimetro per lato quindi uno esterno uno interno più il diametro della vite quindi se una vite fosse di 4 mm ce ne vogliono almeno 6 mm di spessore non sempre c'è quando non c'è si può ricostruire ecco questo è un grosso tema naturalmente per tutte le persone che magari non sono in grado di ospitare subito un impianto di questo tipo c'è la possibilità di creare uno spessore superiore assolutamente sì le vie sono molte naturalmente ci vuole più tempo ci vuole molto più tempo perché ovviamente se abbiamo visto i due mesi per aspettare l'impianto ma ci vuole almeno dai 4 a 6 mesi per ricostruire l'osso l'osso è un altro tessuto che si ricostruisce lentamente subito dopo il tessuto nervoso che non si ricostruisce quasi mai o poco l'osso è il tessuto noi pensiamo a una frattura una frattura ce la ingessano ce la immobilizzano meno 40 giorni è un tempo perché si saldino due pezzi che sono perfettamente a contatto se invece dobbiamo aspettare che questo osso ricresca mediamente ricresce un millimetro ogni mese mediamente in ottime condizioni quindi almeno aspettare che diventi anche di buona qualità perché poi l'osso ha bisogno di tutto un suo turnover le cellule lavorano però bisogna dargli il loro tempo purtroppo e ci vuole circa 6 mesi soprattutto se usiamo dei materiali sostitutivi cioè qualcosa a posto dell'osso del paziente perché le ricostruzioni dell'osso poi possono essere fatte o con l'osso del paziente magari staccandone un pezzo da un sito vicino o da un'altra parte a volte si stacca dal mento dalla parte più posteriore della mandibola e lo si mette dove manca questo per la compatibilità diciamo sì assolutamente se no sarebbe un trapianto sarebbe un pasticcio e quindi si prende questo pezzo e lo si mette lì oppure si utilizzano dei materiali sintetici ma in questo caso i tempi si allungano moltissimo a volte i risultati non sono proprio quello che noi vorremmo e perché è tutto legato alla reattività del paziente ci sono pazienti che guariscono in modo fantastico e reagiscono in un certo modo e reagiscono bene e alcuni pazienti guariscono un po' meno bene ovviamente poi anche da qui sia per gli impianti che per gli innesti e dipende molto allo stato di salute generale del paziente insomma abbiamo altre foto mi sembra che possiamo mostrare adesso la foto 6 la 7 questo ad esempio invece è tutto un discorso legato fino adesso abbiamo parlato di denti fissi ma poi molti pazienti che già hanno magari protesi mobili questa è la classica passatemi il termine dentiera inferiore chi porta la protesi inferiore e non ha nessun altro dente si sa che queste protesi si muovono perché c'è la lingua la lingua si muove e spesso la protesi si muove quindi qual è il miglior modo per stabilizzarla posizionare questi impianti due nell'inferiore qui vediamo nel superiore 4 e creare degli incastri degli ancoraggi quelli di prima erano dei bottoni questa è una barra con delle clip che trattengano le nostre protesi mentre mangiamo mentre parliamo e così il paziente può mantenere una protesi mobile è più facile da pulire soprattutto negli anziani e nello stesso tempo può mangiare quello che vuole perché sono state fatte delle ricerche e si è visto che nei pazienti che portano una protesi mobile che si muove tendono a selezionare il cibo che mangiano quindi magari non mangiano la verdura perché fanno fatica a masticarla perché è sottile spesso banalmente uno dice l'insalata masticare l'insalata non è facilissimo non mangiano carne ottenendo la selezione alla carne perché è difficile da masticare fissando queste protesi anche con solo due impianti si è proprio visto che migliora la salute del paziente cioè lo stato di nutrizione del paziente qui c'è un miglioramento generale proprio di salute generale si parte con due impianti per i denti e si ha un beneficio per tutto il corpo che direi non è una cosa assolutamente da poco ecco noi abbiamo un telespettatore che ci ha mandato un messaggio attraverso whatsapp che ci dice ho fatto un impianto con due denti sei anni fa adesso però comincio a avere dei problemi sarò costretto a rifare il tutto o si può mettere a posto? allora ovviamente anche gli impianti si ammalano perché la differenza tra noi e gli ortopedici ad esempio perché usiamo gli stessi materiali alla fine è che purtroppo i nostri impianti comunicano con un ambiente esterno cioè mentre una protesi di ginocchio o una protesi di anca è chiusa dentro nella pelle non può infettarsi poi invece bisogna masticare purtroppo quel famoso moncone che fuoriesce dal nostro impianto e si collega all'interno della nostra bocca al dente col tempo se per motivi più disparati normalmente sono i batteri ovviamente questa superficie dell'impianto venisse attaccata dai batteri crea infiammazione i dentisti dividono queste infiammazioni in molti modi ce n'è un grado più superficiale che sono infiammazioni alla gengiva che può essere tranquillamente curata quindi bisogna che il telespettatore vada da un dentista che farà una radiografia farà una valutazione clinica e deciderà che livello di infiammazione o infezione c'è e in base a quello esiste tutta una serie di possibilità per provare a recuperare questo impianto che può essere recuperato la maggior parte delle volte oppure se la situazione è un pochino più grave è molto più facile rimuovere l'impianto aspettare che guariscano un pochino i tessuti e riposizionarne un altro nella stessa posizione magari più corto quindi lì possiamo dire a questo telespettatore che dipende da situazione a situazione non c'è una regola come sempre in medicina ci sono delle linee guida poi vanno sempre personalizzate però tendenzialmente se la cosa non è molto avanzata ci sono buone possibilità di poterlo recuperare ecco e come le nuove tecnologie possono consentire appunto l'inserimento di impianti di questo tipo oggi ci dà una grande mano perché la tecnologia ci aiuta tantissimo una delle cause di perdita degli impianti è a volte che questi impianti non siano posizionati correttamente può capitare i dentisti sono uomini sbagliano i chirurghi a trapiantare gli organi sbagliano un errore sempre possibile l'errore umano esiste e poi contestualizzato in quel determinato momento magari possono esserci delle condizioni che non hanno permesso di fare determinate azioni oggi riusciamo ad evitare questo perché cosa facciamo probabilmente i pazienti avranno visto che abbiamo cambiato proprio anche atteggiamento nel prescrivere gli esami radiografici una volta bastava una panoramica oggi le indicazioni all'implantologia sono che bisogna sempre fare una radiografia volumetrica quello che la gente chiama normalmente TAC in realtà quella odontoiatrica è una via di mezzo perché si prendono meno raggi in questo modo di un ATAC si chiama COMBIN è un nome complicato ma insomma è un modo nuovo per fare queste piccole radiografie adesso i radiologici stanno copiando per le piccole articolazioni perché ci sono molti meno raggi i pazienti riusciamo a fare questa ricostruzione tridimensionale dell'osso del paziente e con dei software riusciamo addirittura a studiare l'intervento prima di farlo quindi è come se operassimo il paziente due volte una volta alla scrivania con molto tempo con monza calma lo metto un po' più dritto un po' più storto un po' più qui un po' più orale insomma lo metto nella posizione ideale dopo che abbiamo fatto questo possiamo chiedere a delle aziende specializzate una specie di guida noi le chiamiamo dime chirurgiche cioè sono delle vere proprie guide come se ci fosse un buco dentro il quale noi dobbiamo entrare con le nostre frese quelle frese che avete visto prima entrare nelle posizioni dell'impianto passano invece attraverso questa guida in questo modo il dentista non può commettere errori perché è guidato ecco chiediamo a Ambra se ci rimette il video il filmato che così è molto chiaro e in questa fase di penetrazione delle frese che può esserci qualche piccolo inconveniente magari anche banalmente il paziente si muove a volte basta la lingua che spinge il trapano del dentista perché poi parliamo di millimetri ah sì il tutto è al massimo tre millimetri mezzo quattro qui magari è tutto grande sembrano chissà quanto ma in realtà lo spazio è poco e quindi in questa fase proprio la fresa viene guidata da queste dime chirurgiche e ovviamente il dentista difficilmente può sbagliare deve impegnarsi per sbagliare insomma e quindi tutto funziona un po' meglio bisogna appazientare per quanto riguarda i tempi sì magari richiede un tempo bisogna aspettare 15 giorni in più la data dell'intervento insomma perché va alla progettazione poi questi file vengono spediti all'azienda che produrrà la Dima che la deve restituire banalmente i corrieri avanti e indietro insomma ci vuole il suo tempo cosa molto importante degli impianti è soprattutto poi il mantenimento perché spesso queste situazioni appunto di noi la chiamiamo per implantita cioè l'infiammazione intorno all'impianto che può verificarsi che può verificarsi successivamente non nell'immediato di solito succede anche dopo anni questo telespettatore parlava di sei anni e anche dieci grazie a Dio gli impianti durano molto tempo siamo partiti con dire mai gli impianti un po' come si è fatto con le protesi da Anca che uno metteva in conto di cambiarle dopo dieci anni poi in realtà adesso anche le protesi cominciano a durare molto di più fortunatamente fortunatamente perché comunque è un intervento ben diverso da mettere un impianto nei denti insomma quindi noi posizioniamo questi impianti che durano sempre di più oggi siamo arrivati tranquillamente ad avere medie di 15 anni con oltre l'80% dei pazienti che hanno fatto impianti a cui rimangono a 15 anni sono tantissime io ho più del 70% dei pazienti che sono arrivati a 20 anni perché poi purtroppo non è solo l'impianto fino a se stesso che poi il problema o le condizioni di generale il problema sono anche le patologie generali abbiamo sentito prima parlare di osteoporosi banalmente bene l'osteoporosi colpisce molto meno la bocca per l'amor del cielo ma comunque la qualità dell'osso che sorregge quell'impianto cambia nel tempo banalmente per l'età poi esistono dei farmaci banalmente il cortisone sono malattie che obbligano i pazienti a prendere il cortisone per lungo tempo questo influisce tantissimo sulla qualità dell'osso e di conseguenza anche l'impianto che magari è stato bene per 10 anni a seguito di una terapia di questo tipo può andare incontro a delle complicanze quindi molto dipende ovviamente dall'operato dell'odontoiata su questo non ci sono dubbi ma molto dipende anche dallo stato di salute generale del paziente e dal paziente stesso di com'è geneticamente banalmente io e lei entriamo in una stanza dove c'è uno che ha la bronchite io la prendo e lei no questo fa parte dell'essere umano che ha una sua reazione a qualsiasi cosa ecco abbiamo un altro telespettatore che ci scrive invece mi mancano quattro denti è possibile fare un impianto che sostituisca i quattro denti? sì non uno solo ovviamente sì dipende dove sono perché è molto importante differenziare se siamo davanti cioè sui denti davanti o sui denti dietro perché noi mangiamo quindi il massimo dello sforzo che noi facciamo quando mangiamo è sui denti posteriore quindi per quattro denti se sono posteriori ci vogliono tre viti sicuramente se fossero anteriori mettiamo che mancano i quattro denti davanti proprio bastano anche due viti bastano anche due viti sugli incisivi laterali si può fare quattro denti senza problemi perché il carico è minore la superficie è esposta al carico minore un dente davanti è molto sottile in spessore è molto meccanicistico come ragionamento basta pensarci se uno fa qualsiasi lavoro ci pensa un secondo e capisce se io ho una grossa massa ho il molare che è molto grande molto esteso e ci devo masticare molto forte bene è chiaro che uno o due impianti per mettere quattro denti non possono andare bene perché ci vuole una resistenza ci vuole una resistenza no ma banalmente perché l'osso è vivo e se io lo carico troppo pensiamo a una persona che è claudicante cioè che zoppica un po' perché magari ha la gamba destra l'anca destra rovinata se questo sforza sempre la sinistra perché la carica di più per sopperire alla mancanza della destra piano piano questo osso della sinistra si consumerà e andrà incontro malartrosi e andrà incontro una degenerazione quindi perché l'osso si rimodella reagisce al carico in qualche modo ci risponde a quello che noi facciamo quindi se io prendo un impianto e lo sottopongo a un carico estremo l'osso stesso tende ad andarsene tende a rimodellarsi per sorveggere questo carico è un po' come se dopo a un certo punto dice io non ce la faccio più me ne vado e quindi l'abilità del progetto diciamo protesico è proprio questa cioè capire se sono davanti se sono dietro che denti sto mettendo che impianti posso mettere perché quale carico devono sopportare c'è più osso c'è meno osso e questi sono tutti i fattori che influiscono poi sulla decisione ecco perché spesso i pazienti dicono eh ma il mio amico ha messo tre impianti il mio amico ne ha messi quattro l'altro ne ha messi due ma perché ne ho sei perché ogni situazione clinica è a sé banalmente il tipo di masticazione siamo in conclusione e la classica domanda sull'igiene dentale che serve sia per chi ha gli impianti sia per chi non ce li ha per chi ha gli impianti io dico banalmente difendete il vostro investimento avete speso dei soldi cosa fate le rovinate a volte i pazienti capiscono molto bene questo ragionamento perché dico lei ha speso i soldi e dico questa cosa io e lei adesso diventiamo parenti perché richiede una visita almeno annuale spesso all'inizio si fa anche semestrale o ogni otto mesi a secondo del tipo di lavoro o di come il paziente riesce a tenersi pulito si raccomanda un'igiene quotidiana e l'abbiamo detto più volte qua sarebbe meglio dopo ogni pasto meglio ogni pasto ma soprattutto non andare mai a letto senza lavarsi i denti perché tutta la notte il cibo sopra le nostre gengive i nostri impianti i nostri denti non fa altro che peggiorare qualsiasi patologia e ovviamente i batteri faranno festa e poi non sarà gradevole risistemare tenendo la bocca pulita ci guadagniamo noi assolutamente sì assolutamente sì perché tenere ben puliti ci guadagniamo di sicuro va bene siamo in conclusione ringrazio tantissimo Salvatore Longoni direttore sanitario del poliambulatorio Santa Pollonia di Lazzate speriamo che ci venga a trovare anche prossimamente assolutamente ci vediamo a pre-vacanze vi ricordo questa sera tra poco il nostro telegiornale poi il telegiornale sport Nova Stadio e anche il venerdì linea d'ombra con Adriana Santacroce come sempre i temi principali della politica nazionale è tutto buon proseguimento buona serata buonasera la 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 Grazie.